bella a tutti da porkmods eccoci qua nell'LTS numero 100 raga oggi non potete capire cosa facciamo ce ne giochiamo talmente tanti LTS l'ho impostati tutti a due round mamma mia ci divertiamo allora andiamo raga vi lascio il nome in alto se qualcuno non me lo ricordo di chi l'ha creato perché alcuni hanno dei nomi assurdi tipo lui non mi ricordo chi l'ha creato questa LTS lo lascerò in alto allora comunque lo ringrazio dove si citta? dove si citta raga vi ho impostato a tutti i due round no sono già arrivati eh vabbè raga sti cavoli qualche LTS andrà perso oggi ne facciamo tanti dai citta citta sui citta no una città dovrò dai andiamo 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 carino però col dune buggy eh allora non so neanche cosa scrive nel titolo scriverò parkour vs tutto sicuramente allora perché proveremo tante di quelle cose qua su oh bella cittata mori sui mori ok no ancora vivo si si è morto è morto però quelli sono riate le armi che stanno a fare questi è volato aspettate faccio ma perché stanno a andare indietro da dove da quale parte devono andare questi non lo so ah no stanno lì le armi era giusto che peccato ci arrivate le armi lui mi sa no raga abbiamo fatto pure una bella cittata però è finita male vieni qua sui guardalo che fa il potere dai 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 come possiamo fare se quello che ascava era già vinto questo round che peccato mo aspettiamo che scende lui dai sui scendi giù scendi giù quello mi ha preso le armi mannaggia eccolo qua muori 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 no no perché no sono pure sceso mannaggia oh allora come possiamo fare questo ha preso il laser qua è chiuso no penso che ha preso lì tramesa si qua è chiuso qua è aperto qua teoricamente potresti usarlo quel glitch potrei usarlo allora no 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 già sta a una fu oh oh aspettate è aperto regà no 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 aspettate devo fare in modo di scappare e mettermi nascosta radar no mi uccide è troppo tardi troppo tardi troppo tardi si mannaggia però è aperto laggiù eh ok rimane solo l'ultimo cerco di farne 10 lts non mi importa se dura un'ora o due ore di video lo carico lo stesso round perdente prossimo round ok nuovo round e siamo la squadra dei suini speriamo che loro non l'hanno capito che è lì aperto spero proprio di no allora andiamo andiamo perché voglio iniziare bene vorrei iniziare vincendolo questo prima lts ma se manco si riesce ad andare qua aha ho capito mio dio questi già arrivano dai 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 sui corri 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 no quello ha già capito come si citta no non ha capito mi sa eh oh mio dio mi becca questo no 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 non mi ha beccato non c'ho manca la pistoletta regà mi sento oddio quella è arrivata le armi si regà no no il primo regà è andato perso lts è proprio perso 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 oddio sono rimasto in vita no oh ha citato il suino ha citato no 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 mannaggia lui stavo arrivando io no 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 sui 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 chi è quell'altro eh no regà questo si è nascosto pure ok hai vinto hai vinto mi dispiace Alexio Winter eh niente credo che questo è proprio perso perché imposta tutti gli lts due round però vediamo quanti riusciamo a vincere almeno la maggioranza lì dobbiamo vincere gli lts ah ma non si entrava manco da qua no regà non si entrava oh si no 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 non si entrava da qua mi sa eh niente questa partita è andata perdente prossimo lts ok secondo lts suini quello di prima era stato creato da Alex Barb così si chiamava e questo è stato creato da Sergente di primo grado questo è Parkour contro FIB se non mi sbaglio dai regà questo dobbiamo vincere sono sempre due round questo va vinto perché siamo belli carichi adesso dai che oggi ne facciamo dieci di lts vediamo un po' wow oh mio dio ok bellissima scritta PM no regà bellissimo questo è lts andiamo andiamo che dobbiamo vincerlo via 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 ok facciamo attenzione a questi allora andiamo si vai 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 ok ci mettiamo qua saliamo subito perfetto allora adesso andiamo no 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 ho fatto una cavolata lo sapevo perché non l'ho fatta lì indietro mannaggia a me dai però qua ci dobbiamo pensare suini c'è Alexio Inter c'è sta Sangue Selvaggio Don Fede Power e Anonymous Mods quindi devono vincere devono vincere per forza allora il più avanti è Sangue Selvaggio mi sa credo di sì occhio sui va no hanno fatto no ha laggato ha laggato regà dai che ci arriva no quella ha cittato no regà no questo sta a provare la città mi sa e che è sta macchina qua no credo che sia una macchina di partenza mi sa di sì andiamo cioè io non andiamo andate voi regà andate no no hanno fatto strike non ci credo ok è rimasto Anonymous Mods regà era rimasto mannaggia che succede oggi guardate Anonymous guardatelo guardatelo dai che schiva tutto ce la devi fare devi vincere l'LTS Anonymous ce la devi fare tutto quanto devi vincere dai che è facile è facilissimo dai 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 uccidilo dai fallo secco fallo secco buttalo giù dalla macchina se ce la fai tanto è lenta la questa qua come si chiama la baffalo bufalo non lo so regà no ora lo fanno secco lo fanno secco regà abbiamo perso questo round forse credo di sì credo che è perso ora l'ho ucciso è morto regà no ancora no ancora non è morto ancora che scappa non vuole morire c'ha tipo niente di vita no ha fatto bene così non gli ha dato neanche la kill round perdente prossimo round ok il nuovo round regà stavolta dobbiamo vincere però mo basta basta proprio dai salite con me andiamo a citare proprio subito oddio forse ci conviene ucciderli no regà sono tanti non lo so cosa conviene fare ora vediamo subito innanzitutto voglio vedere qualcosa qualche parte magari un po' citabile vediamo un po' allora qua boh regà io ci provo eh ci provo non vi assicuro niente quasi quasi è che sono messe davvero benissimo le rampe bellissime le tss di sergente allora dove andiamo qua sicuramente sarà chiuso perchè ha creato molto preciso quindi uuuh oddio la non lo so eh oddio ho detto ha creato molto preciso non so se si dice comunque l'ha creato molto bene mi correggo adesso allora ah regà qua qua è citabile no 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 regà eh no regà pure questo le tss ne ho perso eh per favore ok che le dobbiamo fare 10 e possiamo ancora recuperare però regà dobbiamo iniziare almeno bene non possiamo iniziare così allora prima avevo iniziato da D avevamo citato però si ti zitti li stanno a fa secchi aspettiamo un secondo che li uccidiamo anche noi alla vecchia maniera alla classica maniera allora io questo lo becco eh si 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 questo è mio sui non muori mi dispiace ok no regà si beccano anche da Dio in queste le tss non fatico per niente a beccarli oh oh tu no ok no è rimasto in vita a dirmi che è morto eh è morto si 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 ne rimangono due regà ce la possiamo fare andiamo suini via 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 scappa 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 andiamo 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 ok sediamo subito qua sopra vai dai rimangono solo due non mi di che questi due vincono le tss ok ne rimane solo uno se vince solo le tss non so che faccio allora andiamo eccolo eccolo qua mamma mia ma no 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 arriva le armi non ci credo non ci voglio credere aspettate ce l'ha fatta l'hanno ucciso no 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 ok 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 ci no avevo cittato chi è stato mamma mia lo devo trollare chi è stato mmm anonimus è stato lui è stato lui oh si è suicidato quello va bene così non so il perché round vincitore prossimo round ok nuovo round chi vince questo vince tutto io sto già a 20 minuti di registrazione sono due lts secondo me questo video arriverà un'ora più di un'ora quasi due ore non lo so io lo carico lo stesso comunque e non mi scrivete è troppo lungo qua e là lo carico lo stesso allora andiamo 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 che dobbiamo vincere allora no 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 per favore no no subito trollato no 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 io me ne vado aspettate siamo vivi ok se n'è andato meno male guardate ogni musmozza che casca pure allora dai guarda la lezione intera e me dentro là con questa pistoletta dai eh sali ok andiamo andiamo guarda quelli che provano a città oddio regà no 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 andiamo 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 ok allora dai sangue che dobbiamo fa andiamo giù andiamo oh e non me freghi te no mi ha fregato no non mi ha fregato allora andiamo hanno cittato se se credo che hanno cittato mi sa eh credo di si fatemi vedere un attimo eh no chi è stato chi è questo chi è Pietro mannaggia Pietro come famo no regà anche questo è perso perché perché mannaggia allora andiamo però l'importante è che abbiamo fatto una bella città da figura nostra l'abbiamo fatta allora andiamo vai 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 sui andiamo 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 vai veloce 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 quella arriva si arriva dalle armi si 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 ora sta prendendo l'elicottero però eh va bene così oh quella ha cittato no fatelo secco fatelo secco per favore deve morire deve morire anonimus uccidilo uccidilo vediamo no perché mi hanno preso partita perdente anche questa prossimo lts ok il nuovo lts questo è stato creato da black mamba ed è seashark contro parkour allora questo dobbiamo vincere dai 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 regà dire la verità l'altro giorno stavo a registrare questo qua ma poi so crashato quindi so già dove si citta andiamo quindi sarà già vinto questo speriamo che non l'ha modificato il creatore perché io mi ricordo che si cittava da quella parte dai ah e l'altro problema è che le armi stanno da tutte e due le parti quindi anche se citti gli altri possono arrivare anche alle armi non è quello il problema più grave ok andiamo vai 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 sui andiamo 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 veloci 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 allora si cittava qua speriamo che non ha corretto niente oh 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 sorta ok regà già abbiamo cittata andiamo 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 veloci a prendere tutte le armi mi stanno inseguendo tutti me sa andiamo chi è che mi sta a seguire vediamo un po' sangue tutti i suini che cittano insieme a me dai regà l'unico problema è che noi andiamo da quella parte e c'è un bel po' di strada e loro magari vanno dall'altra che ci stanno altre armi quindi ci dobbiamo sbrigare proprio a prendere le armi qua dai andiamo veloci 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 dai sui ce la devi fare andiamo 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 vai ok siamo quasi arrivati alle armi dai 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 ce la dobbiamo fare ce la dobbiamo fare perché i caddi non si sa sono militari sti caddi mi sa vai 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 sui prendi tutto prendi tutto quelli la sono già arrivati credo di si che dite no 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 non so cosa fare aspettate andiamo andiamo la perché o lì c'è chino oppure no 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 ce la facciamo credo che ce la facciamo a questo punto dove stanno questi eh uno si è nascosta radar ha fatto bene l'unico problema è che abbiamo un minigun e altre armi ok ok dove stanno dove sono venite qua venite tutti qua non succede niente dove stanno stanno già là raga non lo so uh non metterò là con sto idra allora dove sta raga mi dite dove stanno che io non li vedo laggiù c'è qualche suino no guarda l'arexio inter che sta qua allora qua ha fatto a suicidarsi là c'è qualcuno no eh raga uno sta sotto qua me l'immagino però sotto qua non c'era niente boh no 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 è la miseria vai via sui via 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 dove sta mamma mia no 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 si 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 ok li ho uccisi quanti ne mancano lo vedete raga l'unico problema è quando sono vestiti da suini a volte non riconosco qual è il suino ma l'avversario è quello mio a volte me lo perdo pure mentre stiamo a camminare tutti insieme mi sembra che il mio personaggio è un altro allora dai dobbiamo vincerlo questa è l'ETS questo ha vinto l'ex winter mamma mia se non vinciamo questo allora dai dove sta ne mancano solo due un suino sta là no abbiamo vinto abbiamo vinto questo round ne manca solo un altro basta che non si suicidano dai poi scusate raga è un altro rete TS ho detto tipo si auto suicidato che teoricamente non ha senso quello che ho detto allora andiamo cioè perché dico sempre andiamo vai te Alexio dove sta è nascosta radar innanzitutto c'era un bazooka credo di sì dovrebbe far esplodere qualcosa dove sta o sta lì o sta là no io non vedo nessuno sinceramente non vedo proprio nessuno ok hanno fatto bene a far esplodere tutto qua l'hanno già visto perché spara là no 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 sta sparando a caso no qua non c'è ok è là è là Alexio è spawnato è spawnato sta in acqua di sicuro lo farà secco ok raga sta qua però non si capisce dove sia forse ho capito quelli si stanno a picchiare là ad Alexio gli conviene andare di nuovo dall'altra parte credo di sì non spara qua vai dall'altra parte dai dai sui sbrigate che stanno a fa' quelli no non credo che stia qua comunque sta dall'altra parte dai 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 qua non c'è ok grandissimo salve selvaggio dai abbiamo vinto questo round round vincitore prossimo round eh niente è crashata l'attività quindi ce ne facciamo un altro di LTS quando crashano passiamo sempre un altro però aspettate questo LTS è vincitore anche se è crashato perché era vinto ok nuovo LTS quello di prima era vincitore però eh questo LTS è stato creato da Toxic Gamer ed è Windsor contro Parkour come si chiama Windsor sta macchina allora vediamo un po' voglio vincerlo ci stanno le armi sì allora andiamo andiamo se cittiamo subito magari eh no volevo allora aspettate devo vedere se magari l'ha fatto male possiamo cittare allora no mi sembrava un'illusione ottica sembrava aperto mannaggia ste rampe è una volta che dove ti avvicini vedi che c'è tipo la rampa allora vediamo come fare allora uccidiamo lì normalmente per adesso anche perché non si vede niente dove stanno dove stanno è città no raga manca città allora uno si è suicidato intanto che c'è sta là chi è una BMX ah è BMX contro qualcosa no 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 famolo secco uccidetelo sta guardando sta guardando quindi sono morti c'è un altro qua sotto no raga questo è vinto questo è vinto mi sa devo fare solo attenzione a quelli che stanno sopra ok mi ha dato uccisione assistita e quelli dove stanno ho capito come farli secchi eh ho capito dove sta andata io sta guarda dietro dai muovite macchina allora io volevo fare questo eh allora c'è qualcuno che sta là sopra se mi sa che qualcuno sta già là sopra credo eh perché io volevo entrare qua dentro ok e fare secco qualche suino ah non manco ci stanno qua dentro no che sta a fare questo qua andiamo ah quella è dalla squadra mia ce la faccio no 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 mi serve una bmx una bmx anche america allora ce la facciamo no 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 come possiamo fare sono rimasto pure incastrato beh guarda come ho parcheggiato la macchina dai 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 si può fare si può fare andiamo andiamo vai 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 eh no quelli non devono arrivi allearmi eh non ce devono arrivare ok cerchiamo di andare chi è sta rampa mannaggia al troll allora aspettate eh dai eh no non mi sale qua dai ok ora sale vai 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 sbrighiamoci andiamo quello ci è arrivato allearmi credo di si credo di si regà allora vai oddio ma avete visto pure bene a bmx per un attimo io si l'ho vista ok aspettate aspettate un secondo che qua lo chiamo all'estern e ci nascondiamo al radar ok fermi tutti zitti tutti allora nascosta al radar ok aspettate non mi deve vedere non mi deve vedere per nessuna ragione da qui mi vedono non saprei eh ok quello è morto qualcuno ha learmi aspettate no ha visto no 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 aspetta non posso morire così come se scende da qua no sui non posso morire così no allora ce ne stanno altri due ma quello che voglio capire è se si può cittare proprio oh oh guardate questa parte dove sta il suino questa è cittabile proprio cittabilissima un'altra parte così c'è si anche dall'altra parte ok forse abbiamo capito come cittare al prossimo round se magari si suicida non questo non il suino volevo l'altro no rega sta a fare la strage giochi non so perché non si suicida lui si deve suicidare no quelli della squadra mia dai dai rega un colpo di fortuna ci vuole eh un colpo di fortuna che magari prende un bel paletto ed esplode ok scendi giù bravo bravo scendi giù che te si rompe dai 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 per favore devi suicidare eh quasi quasi è quasi suicidato è quasi no rega ancora vivo no rega rega mannaggia oh non so se ce la facciamo eh non credo non credo proprio però è possibile oh mio dio rega io prevedo le cose però eh avete visto come si è suicidato mamma mia ti ha messo round vincitore sbrigate round vincitore prossimo round ok rega c'ho un attimo il dubbio questo è il quarto LTS giusto credo di si allora quanti suini siamo ma quanti siamo assù perché c'è stanno i veicoli lassù non lo so allora vai oh come ti permetti sui vannaggia mister killer no 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 rega fermi fermi che non voglio essere trollato eh allora no abici mia eh rega mi conviene prenderne un'altra vannaggia a me che ho perso tutto sto tempo guarda questi adoro entrano no no aiutami aiutami sui oh ti aiuto io sui arrivo io arriva il suino bam e tu non mori mai simo devi morire ok allora prendiamo ste bmx rosa allora andiamo no quella ha citato non credo no rega non credo proprio allora andiamo vai 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 ok lo vedete rega ha citato nel punto dove dicevo yes ho già arrivati rega ma che succede che succede pure adesso mannaggia a me che faccio sti fail ah rega se ero bravo in bmx facevo il wall climb e andavamo là sopra è solo aspettate eh ci proviamo ci proviamo è difficilissimo però si può fare aspettate non è ancora detta l'ultimo perchè se riesce a salire qua aspettate allora dai 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 no nel trick lo so fare ma non so bravissimo rega c'è no e non mi morì però così dai oh oh il suino è arrivato all'elicottero cioè c'è l'elicottero quindi noi possiamo stiamo tranquilli qua a fare il wall climb allora penso che si dice così eh allora dai dai sui no rega non so capace a farlo mannaggia a me però noi ci proviamo oh prova un po' dei raffigenni prova pure te no rega se c'era qualcuno bravo in bmx ce la facevo in due secondi dai no rega ma perchè non mi viene non mi viene mai sto trick eh viene solo da alcuni part da alcune parti della mappa questi sono già arrivati però dai oh era andato alto però eh alto c'era andato no 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 non mi fa esplode per favore eh non mi fare esplodere ok quanti siamo in vita no ma quello con l'elicottero che fine ha fatto ero così tranquillo no rega non posso fare niente allora ci riproviamo niente da fare no rega non ci riesco grazie mille guarda come muore il succhino no rega lo sapete che succede quando fa questo caricamento vuol dire che tra poco dirà errore durante il caricamento è proprio quando stiamo a vincere gli LTS lo fa perchè eh guardate no rega era vinto anche questo perchè avremmo citato e avremmo vinto facciamo un altro LTS ok sesto LTS questo è stato creato da Black Mamba però rega a prima vista è davvero stupendo grandissimo c'è scritto pure PM no doveva salire il suino no sei suicidato davvero molto bello rega bellissimo allora oh oh bellissimo ma citabilissimo allora dai ce la facciamo dobbiamo citare perchè questo deve essere vinto per forza oi 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 no rega troppo veloce troppo 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 si risale solo eppure subito no 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 mi piace tanto eeeh ok ok possiamo andare andiamo ho messo due round si perchè non so se mi sono scordato magari non mi siete più allora rega prima era crashato però era vinto era proprio vinto ok oh eh perchè non mi rimane là sopra però qua ci conviene ucciderli pure normalmente è facile citare però eeeh non lo so dai dobbiamo ucciderli dai andiamo 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 sali no no non posso perdere tempo così rega mannaggia mio no che spettacolo ha fatto pure la piattaforma in quella maniera quanti ne rimangono ne rimangono quattro si credo che sono quattro se riesco a cittore oppure famosecco qualche suino che forse è la meglio cosa si strike fate strike bravissimi no rega li ammazziamo normalmente ci conviene guarda quello che sta a far il potere eeeh ok penso che sia cascato si rimane solo un suino che lo voglio beccare io rega lo beccherà il suino suino becca suino ok rega questa l'ho preso mamma mia l'ho ridotto in poltiglia rega dammi sto round vincitore sbrigate proprio dai dammi sto round sbrigate voglio fare il prossimo round no rega di nuovo ci sta la scenetta romantica guardate ora fa tutta la ripresa ok round vincitore prossimo round spero che non sia crashata perché anche questo era vinto manco un rts vinto ci vuole fa fa niente rega guardate si è verificato un errore mannaggia e vabbè rega dobbiamo andare avanti con la sequenza degli lts ne avviamo un altro ok settimo lts spero che sia settimo rega al massimo ne ho fatto uno in più ma chi è sta scimmietta ah rega questo è stato creato da 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 non mi ricordo rega ve lo lascio in alto allora guardate che spettacolo bello bello rega non è per niente male oh no rega che figata con quella macchina e la tempesta oh che stanno a fare questi chissà questi qua è fatto bene questo lts rega veramente molto bello allora andiamo dai rega ma fino adesso manco un lts abbiamo vinto sapete il perché crashava sempre questo ma becca ma peccato uh paracadute perché c'ho un paracadute dove vado con questo paracadute non lo so rega non ho idea dove possiamo andare con questo bel paracadute a prendere quella macchina quella no non mi uccidere no rega da salta salta te prego basta che prendo una macchina dai sui e si buono buono ok no rega avevo saltato in tempo però eh ce la posso fare a prendere la macchina uh ah e adesso qua come fai come fai sui come fai guardalo mamma mia aspetta ve lo frego io lo frego io no 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 guardate che cattivo che è troppo cattivo Emilio eh niente è morto rega anonymous l'ha fatto secco round perdente prossimo round ok il nuovo round allora questo lts deve essere vinto comunque questa è la tempesta si deve salire con me sta scimmietta andiamo andiamo scimmiettare marcolino c'è pure quella oro andiamo a vedere uno ha già cittato ha cittato o non ha cittato ah ho capito come si citta ha cittato facilmente mi sa allora vediamo un po' eh oh ole è vero si citta molto facilmente dai arriva sta macchina almeno facevo il pezzo non vale farmi il pezzo a piedi allora passiamo di qua ok andiamo 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 rega andiamo a cittare proprio velocemente abbiamo già cittato ora adesso stiamo cittando ad alta velocità allora ok ci possiamo ancora passare qua si vai ancora credo che anche qua possiamo passare rega il suino è pigro a camminare ok qua rega mi sa che devo scendere dai non me la pentava cioè non mi vale farmela a piedi sali dai no rega meglio che scendo prima che arrivano che sto troppo a giocare dai 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 andiamo 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 sbrichiamoci ok allora bello proprio questa DTS andiamo 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 chi è questo qua che sta a fare nella minimappa tutti questi giri non lo so qua chi è oddio quanto è ripido rega qua di nuovo il suino cammina strano no cammina abbastanza bene possiamo andare pure veloci si se salto che succede muoio no 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 non muore non muore ok andiamo 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 rega io voglio un bel savage anzi anzi ci prendiamo un bel po' di armi e poi ci prendiamo un bel savage ma credo che già bastano queste chi è stato come te permetti allora mi serve questo qua dai sali 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 sbrigate sbrigate perché deve distruggere tutti i veicoli non si sa guardalo come vedo là forse non ha capito questo questo non ha proprio capito con chi sta a giocare mi sa non l'ha capito ok già è morto ok andiamo allora dove sta sta uno sta oh vieni qua sui vieni 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 tranquillo ti do una mano io a morire vieni qua bravissimo vai bravo mori 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 ok adesso ne dobbiamo uccidere un altro però non so se sarà vincitore questa LTS perché se dopo loro uccitano è impossibile tanto uccidiamo a questo no non ci siamo riusciti eh ha citato no non ha citato no 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 allora che dite scendiamo da qua ce la fa oh no non è che vengo trollato no 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 siamo stati trollati però quello va veloce con quella macchina però anche noi possiamo andare belli veloci dai 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 ok missili guidati magari è meglio si usiamo questi missili una volta tanto dai che muore si rega sono pacchia però questi missili allora ok abbiamo vinto da me sto round vincitore round vincitore prossimo round comunque credo che sia il settimo eh non lo so bene rega c'ho il dubbio non so neanche ah il paracadute ah ecco perché avevo il paracadute prima mi sa che lo possiamo sempre usare per citare ma quelli già hanno citato mi sa eh sono sicuro no no ok ok rega sono ancora vivo però andiamo vai 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 sui vai 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 allora ok proseguiamo dove stanno gli altri uuuuh no hanno presa uno l'hanno già preso quanti siamo qua a correre eeeh mo c'è ara c'è ara c'è ara giù 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 no giù adesso ok rega andiamo su no ancora giù no rega possiamo andare andiamo 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 veloci via 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 ok rega io mi nascondo dentro c'è sbuio selvatico così non mi vedono ok possiamo andare credo credo di sì ok credo che qualcuno ha già citato però eh eeeh sono vivo sono vivo quello sì Alex Winter mi sa che ha citato oppure non lo so non credo allora andiamo vai 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 sui Corli Corli veloce più veloce ancora no sta riando qualcuno rega me becca all'ultimo no 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 ok meno male allora andiamo dai rega forse ce la possiamo fare ma dico forse forse sì sono ancora vivo però quindi quindi possiamo fare una bella cosa ci buttiamo perché abbiamo il paracadute non avevo il paracadute rega io avevo preso il paracadute l'avete visto pure voi eh rega sono successe cose strane una aveva citato dell'altra squadra ha preso l'elicottero ora stanno in due se poco poco uno muore possiamo vincere se quello con l'elicottero si suicida in questo momento possiamo vincere no pensavo che era stato trollato invece no 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 rega abbiamo perso proprio di brutto me sa eh credo di sì se lui poco poco muore abbiamo vinto però non credo che riesce a morire no niente rega è perso credo dovrebbe suicidarsi proprio in questo momento oh c'eravamo quasi no che peccato eh partita vincitore vabbè questa me la dovete spiegare almeno uno ho vinto però a noi non ci basta prossimo LTS ok ottavo LTS rega non mi ricordo chi l'ha creato mannaggia a me però è stupendo guardate la scritta porc ve li metto in alto tutti i nomi di tutti gli LTS creatori perché l'avvio però mi scordo di vedere il nome allora dai andiamo 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 comunque lo ringrazio perché è un LTS davvero fantastico già a prima vista cioè guardate che spettacolo l'unico problema è che se caschi caschi ah no 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 se risale allora andiamo andiamo che spettacolo bellissimo dai andiamo 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 quelli hanno già citato no 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 possiamo andare vai 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 è fighissima questa rampa come l'hanno fatta proprio bella 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 allora eh no di già no rega Emilio Emilio ho già citato mi sa eh credo di si credo proprio di si andiamo vai 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 no si è suicidato meno male vai sui andiamo a prendere le armi che dobbiamo vincere anche queste LTS dai 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 vai ah qua aveva citato eh avete capito guardate è facilissimo citare qua basta andare piano 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 e avete citato quindi il prossimo round non è che sarà vinto di più e non mi è cascato sui anche il pietro è cascato allora andiamo dai 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 rega questo è l'ottavo l'ho detto no oh mamma mia rega mi è venuto tipo un colpo al cuore pensavo che stava a cascare allora andiamo andiamo e mancano e doio però sui mi passo cade lui mi fa il potere andiamo 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 ancora ok qua facciamo il parkour estremo no rega guarda il parkour estremo il suino che casca famo allora andiamo vai 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 allora da dove si va eh come ha fatto a saperlo boh non lo so non credo che sia il creatore questo davanti a me boh non ho idea però rega lasciatemi qualcosa sono arrivata le armi però c'è solo questo solo solo le armi per il suino oh oh aspettate eh aspettate un secondo sui ah no me lo regala io te volevo fregare che era armato invece è un bravo suino dai sali 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 voglio andare a uccidere qualcuno ah andiamo dove sta ah ho capito dove è andato forse credo no 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 non cascare giù perché noi ci dobbiamo buttare da questa parte se non mi sbaglio si andiamo qua vai 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 andiamo 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 ok eccoci qua manca solo uno che lo faccio secco subito dove sta dove si trova mamma mia questo LTS è già a partita vincitore me lo sento regà me lo sento proprio allora andiamo vai 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 regà lo dobbiamo uccidere a questo lo dobbiamo fare secco però regà ogni tanto è divertente fare più di un LTS nel video è molto divertente dove sta eccolo là dai uccidilo dai uccidilo e io ormai non posso ucciderlo non posso proprio io regatore fare il giro ok l'ha fatto secco ti ha messo round vincitore sbrigate sbrigate round vincitore prossimo round ok nuovo round no io non volevo proprio questa eh regà lo prende forza questa andiamo che vuole solo andare solo andare pianissimo si 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 allora ok noi citiamo no qua non ci conviene ci conviene lì allora piano piano dobbiamo andarci no vai mamma mia perché ci sono arrivati i suini però io ho fatto sto fail non la sapevo alla velocità regà vi giuro mannaggia eh anonimus ho ucciso tutto l'LTS praticamente e io ci do sto suino vieni qua no regà almeno uno volevo uccidere io niente abbiamo vinto abbiamo vinto regà dammi questa partita vincitore sbrigate vai partita vincitore prossimo LTS ok nuovo LTS regà spero che questo sia il nono eh non mi ricordo se ho fatto l'ottavo o non l'ho fatto credo che stiamo andando bene nella sequenza allora questo è stato creato da geni raffi ed è panto contro parkour allora io andrei a cittare proprio subito 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 vediamo un po' se si può vediamo un po' a me qua mi piacerebbe cittare qua eh no potevi cittare proprio un atto benevolo non me lo poteva fare allora dobbiamo risalire a parte che è stato creato da geni raffi però questo stavolta non è cittabile no questo non è cittabile tutti i geni raffi erano cittabili ma tranne questo no mannaggia geni come risalgo qua allora no regà che peccato bisogna risalire da qua allora andiamo credo che questo sia perso già di round non saprei al massimo riproviamo a cittare o al massimo riproviamo a cittare eh no anonymous eh no 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 aspettate però oh eh no capita adesso come si citta no no regà non è possibile non lo sapevo io non lo sapevo vi giuro mannaggia a me oh no 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 se cittava da là perché non lo sapevo prima dai 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 ci dobbiamo provare però quelli sono già arrivati me sa no che è pecchiato però però loro se non lo sanno dopo cittiamo però adesso qualcuno mi potrebbe vedere eh oddio stanno avanti qualità a squadra mia però credo eh si 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 citta sui citta 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 mamma mia arzuino ha citato proprio benissimo allora che facciamo di bello allora innanzitutto prendiamo un po' di armi eccole qua sono tutte nostre queste adesso cosa facciamo loro stanno là io risale direi qua si vieni qua vieni qua aspettate metto qua sopra ok vieni qua sui bravissimo allora andiamo a uccidere qualcun altro vai 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 andiamo 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 si può salire qua credo di si no credo proprio di no no raga il bello è che siamo in trappola no 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 aspettate qua qua non si fa niente eh niente dobbiamo uscire con qualche idra però stanno andando tutti a fuoco come sa eh credo di si non lo so allora dove stanno ok un bel buzzard un bel buzzard per noi ci vuole eccolo qua è mio questo è solo mio saliamo subito su io voglio guida io ok sali quanti ne mancano? due solamente due c'è Anonymous che è nascosta al radar me sa quindi dobbiamo fare pure attenzione eh molta molta attenzione allora qua c'è De Prossimo che controlla la situazione quindi possiamo andare tranquilli credo si non c'è nessuno là eh vabbè usciamo fuori noi andiamo 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 oddio quanto è alto è troppo alto vai oh non metto un lag ai killer ok allora andiamo giù dove sta? verso il eccolo che è lui? si no è solo un fumogeno dove sta? ah sta sotto 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 sta mi sa eh si dobbiamo andare qua vai andiamo molto delicati ok dove? eccolo qua mori mori subito no no non mi drolla non mi drollare dove sta? eccolo eccolo dai lo becco oh mamma mia non riesco a beccarlo raga aspettate aspettate un secondo ok un suino si è buttato fatto bene però non riusciamo a trollare a lui dai dai ok ok l'hanno fatto secco ne manca solo un altro che sta le armi no 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 nonimus no 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 aspettate un attimo che qua è rischioso io mi vado a mettere di qua no raga c'ho troppa paura se no possiamo fare una cosa molto bella ci mettiamo qua ci nascondiamo a radar e che non ci vede gli spariamo dall'alto credo che sia un'ottima idea allora nascondiamoci a radar dai 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 l'ho prese le armi prima credo di si così andiamo dall'altra parte così lui non sa dove siamo dai 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 ok no l'ho fatto si andiamo 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 facciamo un bel giro di qua così non ci vede non so se è uscito dalla zona credo che ancora sta là dentro eh cosa abbiamo di bello oh 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 aspettate aspettate dove sta arzuino dov'è regà voi lo vedete io non lo vedo non lo vedo regà dove sta oddio c'ho paura ha preso il ricottero quindi quale è dove sta ah è lì oh anticipiamo eh vai bam mamma mia regà ce l'abbiamo fatta da me sto round vincitore round vincitore prossimo round ok nuovo round andiamo 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 ok che sta a fare suino perché fa così dai 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 sali 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 ok speriamo che loro non hanno capito dove si citta eh oddio già li vedo belli cittoni a questi eh uh mio dio stavo quasi per morire no 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 hanno già citato anonymous mi sa che ha capito dove ho citato hanno citato no 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 regà tanto abbiamo vinto lo stesso perché il prossimo round citiamo e abbiamo vinto però non lo so se hanno citato eh si 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 hanno citato regà ce l'hanno fatta andiamo vai ok un suino poliziotto un suino poliziotto regà vieni qua avvicinati fammi vedere guardatelo a lui aspettate il simboletto il gestino eccolo indichiamo a questo suino poliziotto questo fa la guardia a tutti i suini poi li arresta pure allora andiamo 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 eh quelli hanno preso non ha preso l'itra non ha preso l'altra cosa o scendiamo giù e ci prendiamo una bella panto e andiamo a cittare anche noi si è credo che sia una buona idea eh allora ritorniamo indietro c'è una panto là eh c'è una bella panto questo mi ha visto non lo so ci nascondiamo dentro il cespuglio selvatico così non ci vede uh non mi ha visto ok 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 allora adesso se ci riesco eh oddio da qua più no mi hanno fatto secco round perdente prossimo round ok nuovo round ragazzi va subito a città sali con me sui no poliziotto che andiamo subito subito a cittare allora questa volta ce la voglio fare al primo colpo facciamo andare un po' più avanti lui ok andiamo facciamo andare avanti de prossimo così almeno possiamo saltare meglio dai 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 verso l'alto dobbiamo andare verso l'alto oooole citato ok perfetto raga allora ci prendiamo come al solito un po' di armi e poi andiamo a prendere un bel buzzard allora vai 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 ok allora ah raga il potere è tutto del suino almeno un potere ci vuole col suino poliziotto allora dai andiamo andiamo voglio prendere quel buzzard eccolo qua vai 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 sali sui andiamo a uccidere a tutti tutti dobbiamo uccidere vai 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 parti 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 sbrigate ok forse conviene che qualcuno resta qua dentro però non saprei vediamo un po' quanto è alto troppo alto dai andiamo giù andiamo eccolo me lo falcio sto suino giuro che lo falcio allora vedi qua sui no ok l'ho falciato però rimango trollato non proprio posso ancora uscire vai 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 ok andiamo su dai dai che ce la dobbiamo fare dobbiamo trollare qualche altro suino allora quello lo lasciamo perde invece ha questo lo famose ecco ha questo davanti a noi che non so dove eccolo eccolo crede che è furbo no 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 vabbè questo lo trolliamo così si 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 proprio falciandolo lo devo falciare a questo suino vieni qua che ti falcio vieni dove scappi no si è glitchato si è glitchato regà si è glitchato aiuto 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 regà si è glitchato no 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 ok ok siamo ancora vivi allora l'hanno fatto secco manca solo quel suino là che lo faccio secco io ancora vivo oh finalmente dammi sta partita vincitore dai sbrigate partita vincitore prossimo lts ok decimo lts mamma mia regà questo è stato creato a moz jovix ed è parkour contro street blazer l'unico problema è che questo l'ho registrato una sera io è solo che l'ho crashato tipo al primo round so già dove si citta e noi non siamo partiti dalla parte dove si citta è quello il problema non uccidete però andiamo 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 veloci dai 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 ce la devi fare vai 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 no regà qualcuno mi sa già citato credo che hanno già citato mi sa allora andiamo andiamo dai sali sali eh no regà questo sarà già perso questo lts peccato peccato regà allora andiamo perché chi capita dall'altra squadra vince è quello il problema dai ci dobbiamo sbrigare dai andiamo 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 vai veloce ok quelli sono già arrivati come possiamo fa non si sa non si sa proprio l'unica cosa è no regà non saprei sinceramente andiamo quello ha già preso il car armato regà come possiamo fa non lo so mi ha fatto casca però io mi frego il quad regà zitti zitti che mi frego sto quad che è mio è mio ok allora io mi nascondo a radar e dovrei andare a cittare però come faccio come posso fare non lo so regà mi dispiace che l'ultimo lts è perso però dai ne abbiamo vinti tanti allora adesso vediamo un po' che possiamo fare qua il problema è quello col car armato è un problemone no già avestezze qui nascondiamoci a radar ok siamo nascosti a radar per adesso ora io salirei qua sopra no no andiamo andiamo quasi città guardate qui questo è il punto cittabile però ormai che faccio qua questo non mi spara col car armato in più mi sono glitchiato no allora eh regà sono morto mi rimane solo da fare il potere tutto del suino il potere tutto del suino morto no vannaggia pirata round perdente prossimo round ok nuovo round allora qua regà è facile città cioè città proprio subito andiamo 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 vediamo un po' chi mi ha scritto o che mi ha richiesta e vi va aggiungere solo questo niente saluti allora andiamo 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 città sui uh eh no pure così me sbagli no eh così mi dispiace ma non va bene non va bene per niente tanto hai già vinto eh adesso ricitto e ce la facciamo però prossimo round è perso quello è il problema il problemone dai sui che mi combini qua andiamo vai 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 ok dai adesso citti però eh che stanno pure arrivando questi dai 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 ok 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 abbiamo cittato allora qua come posso passare qua e dai levati ok andiamo 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 bravo Anonymous che ha preso il buzzard dio qua prendere un bel cararmato che metrolli allora andiamo ah raga guardate spettacola scritta pork mods grazie mods jovix ogni volta va in pitch a dire il nome suo e in più Anonymous ha fatto secco tutto l'LTS allora eh un bel cararmato mi ce vuole eh voglio un bel cararmato il problema è il prossimo round si potrebbe vincere ma è difficile raga troppo troppo dovrebbe capitare un colpo di fortuna un miracolo per vincere quel round non saprei si è pure suicidato Anonymous ma abbiamo vinto mi sa ah ne manca solo De Prossimo che sarà nascosta radar sicuramente fa il furbetto dove sta dove è lui guarda raga non l'ha visto nessuno De Prossimo eh nessuno l'ha visto mamma mia era pure sul coso rosso e della vestito rosso l'ho visto uguale come ho fatto non se sa dai round vincitore prossimo round ok nuovo round allora andiamo vieni qua sui eh no è mio quel quad no non mi uccidere non ci provare mamma mia vieni qua vieni qua vieni qua ok l'ho fatto secco allora però quelli sono già arrivati mi sa si no vanno pure fatto secco eh niente raga l'ultimo è stato perso però però non sono tanto convinto un altro ci può stare un altro bonus prossimo LTS ok raga ultimo LTS ultimo round è sempre un LTS suino creato da Anaconda e dobbiamo schiacciarli con il dump ho messo solo un round raga quindi dobbiamo vincere perché chi vince questo ha vinto tutto no no raga che stanno a fare questi andate tutti giù via no raga li devo picchiare ma qua ci stanno le bombate si lo sbaglio no sulle molotov dove stanno questi no i granati qua ci stanno no non mi devono uccidere il C4 il C no sui sono io questo no sono rimasto trollato da quello della mia stessa squadra ok il primo è andato sono andato ok abbiamo vinto tutto raga chi vinceva questo vinceva tutta quindi vediamo un po' vincitore se vi sono piaciuti questi 2000 LTS lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale seguitevi su instagram saluti questi sui in bella grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti.